Il gol pesantissimo, questo realizzato con il Roccaravindola, che davvero ha tolto le castagne dal fuoco a una squadra che ha spinto tanto, però non riusciva a trovare tanti sbocchi offensivi. Dovevamo essere più concreti sotto porta, soprattutto nel secondo tempo, quando dovevamo sbloccare la gara. Abbiamo fatto vedere che comunque, sotto il punto di vista offensivo, sappiamo dare tanto, però serviva qualcosa in più. Sei al primo anno qui a Riccia, che impressione hai avuto sul gruppo e su questo campionato? A Finatura mi sto trovando benissimo, il gruppo penso che non mi potesse accogliere meglio di così. Sono comunque in un bel paese, in un bel ambiente, soprattutto mi sta piacendo la mentalità della squadra. Dobbiamo dare un po' di più perché per come ci alleniamo e per la serietà che ci mettiamo, sicuramente meritiamo qualcosa in più, ma la otterrimo il prima possibile.